si vola pronti per un viaggio lunghissimo sulle mani ragazzi tiriamo sulle mani e pronti a volare e chi non tira sulle mani non mangia la caramella domani mamma mia ragazzi quanto aspetto questi momenti con fede si fa morire da ridere si mette il filtro a lui alla povera vito guardate come si sono ridotti la vita vito sembra una di quelle ragazze di instagram strappine ecco tratta normale mentre lui sapete che mi assomiglia sapete quel truccatore famoso di youtube james charles qualcosa del genere e poi ovviamente vito non è più più di suo padre e si butta addosso alla povera paloma mamma mia brava paloma ecco eccoli qua fatti li tira le orecchie fa il disatto passiamo a un'altra famiglia va che è meglio un altro cagnolone va mio dio e guardate adesso che arriva sullo sfondo il nostro edo eccolo qua il nostro tatone